Sembra un orologio, purtroppo, l'argomento della sanità nel dibattito pesarese, che ogni volta puntualmente ritorna, soprattutto per quanto riguarda il tema del nuovo ospedale o ospedale unico, a seconda di chi ne parla e in quale accezione. Sull'argomento, dopo le parole del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, che aveva chiesto all'opposizione del suo governo di sollecitare la regione, essendo governata dalla centrodestra e di fare chiarezza su vari fronti, a parlare ora è Dario Andreolli, consigliere comunale in quota lega, che accusa il PD di mala gestione durante i governi regionali precedenti. Sulla sanità persistono tantissimi problemi che nessuno nega e non nega nessuno la difficoltà di riuscire a mettere a terra una progettualità sanitaria che è stata completamente travolta rispetto ai disastri del passato accumulati dal Partito Democratico, dalla guida di centrosinistra, di cui negli ultimi cinque anni Biancani era un illustre consigliere regionale. I ritardi nel nuovo ospedale sono dovuti a 30 anni di mancate politiche fatti dal PD su questa città e di mancate promesse portate a termine, mentre questa giunta regionale non solo ha finanziato con soldi pubblici, non con project financing in nuovo ospedale, ma è riuscito a mettere a terra e ad avere un cronoprogramma che entro la fine della legislatura poserà la prima pietra. Un PD che ha lasciato la sanità senza il finanziamento delle borse di studio per i medici, cosa che questa giunta regionale ha implementato nel corso di questa legislatura, cercando di aumentare e cercando di bilanciare il numero di pensionamenti rispetto al numero di nuovi medici entranti. Un PD che ha lasciato una sanità smantellata nell'entroterra ed è recuperata lungo la costa in nome della politica degli ospedali unici. Davanti a queste tante criticità, tanta difficoltà di riuscire a dare risposte alle liste d'attesa, soprattutto post-Covid, ma smettiamola con questa retorica del quando si è in difficoltà, di quando questa maggioranza a Pesaro è in difficoltà, cerca solamente uno scontro con la regione che non fa bene nemmeno alla città, ma soprattutto che cerca solamente di distogliere l'attenzione sulle grandi criticità di questo inizio legislatura per Andrea Biancani, che sta smantellando una alla volta tutte le scelte fatte dal suo predecessore.